Le girarchie economiche mondiali, la situazione attuale e quella futura. Benvenuti ad un nuovo episodio della Finanza Amichevole. Dopo aver analizzato l'andamento dei mercati in questi primi sei mesi dell'anno, è importante analizzare anche l'andamento delle economie mondiali, le girarchie attuali e quelle future. In questo momento storico prendiamo atto del cambiamento che sta avvenendo nella classifica a livello mondiale. Si sta passando dall'Europa all'Asia a livello di importanza. A fine anni 90, nella top 10, si trovavano 5 paesi europei. La classifica avvedeva in testa gli Stati Uniti, seguiti dal Giappone, Germania, Francia, Italia, Regno Unito, Spagna, Canada, Russia e Cina. Già negli ultimi anni abbiamo visto il rallentamento del vecchio continente, con gli Stati Uniti che rimangono in testa alla classifica, seguiti dalla Cina che sta recuperando terreno. Giappone, Germania, Regno Unito, Francia, Italia, che ancora resiste tra i primi dieci, Brasile, Russia e Spagna. Questa classifica sarà ulteriormente stravolta in base alle previsioni che ci sono nei prossimi cinque anni. C'è da dire che il Covid-19 ha accelerato questo processo in atto a scapito dei paesi europei, i quali scontano processi economici superati e regole troppo antiquate per stare al passo con i tempi. Secondo le previsioni della Banca Mondiale, nei prossimi cinque anni la Cina sorpasserà gli Stati Uniti, che scaleranno al secondo posto, terza l'India, a seguire Giappone, Indonesia, Russia, Germania, Brasile, Regno Unito e Francia. Passando negli ultimi trent'anni da una bassa crescita in Europa, per non dire nulla in alcuni paesi come l'Italia, a una forte crescita per i paesi asiatici. Paesi che hanno avuto una visione di più ampio respiro e che hanno investito nel lungo periodo, diventeranno i riferimenti e con la loro potenza, mi permetto di dire, acquisteranno quanto di buono ci è rimasto nei paesi più deboli. Oppure acquisteranno le materie prime presenti in quei paesi, come del resto ha fatto negli ultimi decenni la Cina con alcuni stati dell'Africa. Avendo bisogno appunto di materie prime, sono andate a colonizzare dove potevano reperirle. Questo serve per capire cosa ci aspetta e quelli che sono i paesi che avranno maggior sviluppo e crescita futura. Purtroppo, con il passare del tempo, l'Europa sarà l'area con la più bassa crescita e forse risalirà alla Cina dopo che avremo visto una colonizzazione demografica e a seguire quella economica. Per questo vi rimando alla puntata del 17 marzo 2019, intitolata La colonizzazione dell'Italia, dove analizzo la situazione del nostro paese e il suo futuro. Questa puntata, tra l'altro, fa parte di un articolo che ho scritto nel 2014, quella che era stata la mia visione risale a qualche anno prima. È un'opinione ovviamente personale che spero non trovi riscontro, ma ho paura di no. La citazione di oggi è la seguente. Non sono un paranoico milionario fuori di testa. Per Dio, sono un miliardario. Howard Hughes. Rendiamo la finanza amichevole. Vi aspetto.